salve ragazzi come va vorrei confessarvi una cosa allora avete presente questo canale beh come vi siete accorti voi stessi non è un canale molto professionale serio con tantissimi tagli editing e cose del genere assolutamente no perché il mio perché il mio vero obiettivo che ancora diciamo non è in fase di sviluppo e adaptation ita e unboxing sono questi due canali principali che prendo molto seriamente specialmente con il canale unboxing che riguarda gli unboxing di ogni cosa dei film dei videogiochi dei gadget eccetera anche di tecnologia specialmente anche quella invece su questo canale è molto è al contrario è il contrario di altri due perché questo non prendo seriamente a volte a volte pubblico le cose serie ma certe volte pubblico anche delle cavolate e mi sfogo dei video sfoghi nel carico e beh poi è difficile anche gestire il canale e i due canali unboxing e adaptation ita perché ci vogliono tantissimi elementi specialmente di più nel canale adaptation che devo adattare la lingua italiana diciamo nei video cutscene e trailer con la voce in italiano penso che lo troverete o no che ne so sul mio canale principale e penso che quelli che sono rimasti su questo canale principale li trasferirò mi trasferirò nel mio l'altro canale adaptation ita diciamo per avere un'unica rubrica ma mica farò tantissimi creerò mille canali per ogni rubrica no certo che no mi limiterò soltanto ad avere tre canali che è un unboxing adaptation ita e il doppiaggio e sì farò anche del doppiaggio ne caricherò ne caricherò quelli che ho fatto sul su questo canale e lo metterò nel canale unboxing che no scusate scusate per il doppiaggio che per creare il canale per il doppiaggio lo devo ancora creare perché devo pensare anche al logo principale se no che canale senza un logo veramente e con il doppiaggio sarà molto più faticoso rispetto al canale unboxing e adaptation ita e con l'adattamento italiano rispetto al doppiaggio quasi quasi allo stesso livello dipende da quello che sento da quello che sento dentro di me sarà un lavoro molto grande e molto ambizioso di cui sarà sarà una svolta epocale secondo me perché molti video verranno diminuiti col tempo che che alcuni alcuni video verranno eliminati ma soltanto quelli inutili che ho perché vorrei dare una svolta a tutto forse non lo so forse creerò anche un canale per i video giochi ma questo è un progetto molto lontano o forse potrei creare un canale soltanto per le notizie di quelle che raccolgo che raccoglierò ne ho di molti di progetti da fare ma peraltro no mi concentrerò molto sui due canali che che ho adaptation ita e unboxing vabbè grazie per questa cacchierata buona cena per chi beh buona cena anticipo perché non penso che caricherò un altro video nello stesso giorno vabbè io vi saluto qui grazie per aver visto questo video lasciate un bel like vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video ragazzi a presto ciao ciao